Mi chiamo Cristina Malacarne e faccio l'astrologa. Sono una lettrice appassionata e salto un po' di qua e di là, non ho un criterio preciso nello scegliere i libri. Mi sento di consigliare, perché mi ha veramente appassionato, tutti i libri di Elisabeth von Agnum, perché una scrittrice a cavallo fra l'otto e il novecento, perché c'è ironia, intelligenza. Penso che sia una lettura che oltre a divertire faccia bene perché è molto incoraggiante, sprona alla libertà, all'autoaffermazione, il tutto condito veramente con un umorismo finissimo.